Bene ragazzi, oggi sono qui perché ho da poco visto Orgoglio e Pregiudizio. Diciamo che tutti dicono che è un film stupendo, una storia d'amore meravigliosa, ma io non ci ho visto niente di tutto ciò. Nel film ci sono due storie d'amore parallele tra le due sorelle, una più schifosa dell'altra. Non c'è amore, non c'è romanticismo, è un film vuoto secondo me, è un film che dura due ore, io l'ho guardato per tutte e due ore, mi sono sembrato intanto sei, film lentissimo, ma è secondo me un film praticamente senza nulla, non ci ho visto niente di bello, ci sono film romantici molto 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 più belli di Orgoglio e Pregiudizio, appunto perché, lo ripeto, secondo me è un film vuoto, l'amore che c'è dentro il film non è un amore che fa per me, non ci ho visto praticamente nulla d'amore e la scena finale del bacio è arrivata praticamente random, senza un niente dietro. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di Orgoglio e Pregiudizio, ma a me ha fatto veramente schifo. Bella ragazzi!